Grazie a Felice, grazie alla dottoressa Quattrociocchi. Devo dire che hai detto molto bene Felice prima nella sua introduzione perché c'è in effetti il problema della pandemia da Covid ha coinvolto in modo molto forte tutti i pazienti con patologia oncoematologica e in questo ambito sicuramente i pazienti con leucemia linfatica cronica sono quelli che sono stati un po' sotto un focus particolare. A me piace iniziare questa brevissima presentazione partendo un po' da quelli che sono i punti in comune fra la leucemia linfatica cronica in termini di caratteristiche cliniche e quelli che sono i fattori di rischio nell'ambito del Covid-19. Come voi vedete c'è una assoluta sovrapposizione di un paio di cose per esempio l'età avanzata che caratterizza i pazienti con leucemia linfatica cronica come ha detto molto bene in esordio diciamo anche Enrica e l'immunodeficienza sono le due caratteristiche che di fatto vanno a caratterizzare la gravità diciamo della Covid-19. Il secondo punto è che rende un po' simile le due situazioni e che diciamo le comorbidità finiscono con avere un peso assai importante in queste due situazioni. Cioè sappiamo come la maggior parte soprattutto nella prima ondata dell'infezione da Covid i pazienti che hanno pagato un prezzo maggiore sono stati pazienti con comorbidità e le comorbidità di fatto costituiscono una parte assai rilevante nell'ambito dei pazienti con leucemia linfatica cronica. Ma forse questo per dirvi che diciamo molti studi sono stati prodotti soprattutto nella prima ondata e io vi ho messo qui questa piramide che è la cosiddetta piramide delle evidenze. Che cosa significa? Che gli studi hanno poca rilevanza nell'ambito del Covid? No, significa però che bisogna guardarli con un'attenzione che sia un pochino più critica perché molti di questi sono studi osservazionali e se voi vedete questa piramide rovesciata che è la piramide delle evidenze c'è diciamo nella parte più bassa sono proprio gli studi osservazionali. Quindi questi studi hanno fornito certamente informazioni ma non sono sufficientemente solidi da poter fornire diciamo un modello di gestione completa dei pazienti. Quindi diciamo il processo con cui noi gestiamo questi pazienti è un processo che è in continua evoluzione, è un processo in cui giorno per giorno impariamo delle cose. Questi sono i quattro punti che secondo me meritano di essere un momentino discussi che sono quelli relativi all'incidenza, cioè in altri termini il paziente con leucemia linfatica cronica ha un rischio maggiore di ammalarsi di infezione da SARS-CoV-2. Il secondo punto è una volta che il paziente con linfatica cronica si ammala ha un rischio maggiore di sviluppare un'infezione grave quella che noi definiamo il fatality rate il secondo punto è qual è l'impatto delle terapie cioè in altri termini diciamo i pazienti che ricevono tipologie di terapie differenti o i pazienti che non ricevono nessuna terapia hanno una gravità maggiore di infezione e ultima cosa quali sono i fattori che diciamo sono associati all'outcome clinico dei pazienti. Ora questi primi dati che fanno riferimento ovviamente alla prima ondata ci danno una misura un po' di quello che è stata l'incidenza di covid-19 nei pazienti con leucemia linfatica cronica. Faccio riferimento a questo studio che è uno studio italiano ed uno studio del CLL Campus sono stati diciamo valutati circa 9500 pazienti diciamo e l'incidenza di casi di covid era dello 0,5%. Se questo dato noi lo confrontiamo con quella che era l'incidenza di covid-19 nell'ambito della popolazione italiana nell'intervallo di tempo fra l'inizio di marzo del 2020 e metà di aprile del 2020 come vedete nella popolazione regionale è 0,27%. Quindi anche se questo dato vi sembra diverso cioè in effetti noi non è che siamo riusciti diciamo a cogliere proprio tutta la popolazione dei pazienti con leucemia linfatica cronica quindi forse la prima conclusione che può essere tratta è che l'incidenza non è tanto diversa rispetto a quella della popolazione normale. Ben diverso invece il discorso è che quando si va a valutare è quello che l'impatto che l'infezione da covid determina in questi pazienti. Questi sono differenti studi e lo studio sempre italiano del campus o CLL che è stato uno dei primi studi e quindi resta un po' una pietra miliare nell'ambito di queste valutazioni epidemiologiche. Lo studio di Eric ma poi ci sono anche degli studi statunitensi in basso c'è uno studio che mette insieme le valutazioni europee e le valutazioni statunitensi però come vedete tutto va in una direzione abbastanza univoca cioè il fatality rate è intorno al 30%. Quindi noi sappiamo che se un paziente con leucemia linfatica cronica si ammala di covid ha un rischio che è intorno al 30% di purtroppo di soccombere e come vedete questo è fortemente anche correlato a quella che è l'età mediana di questi pazienti che come vedete è di 70 anni e oltre. Il secondo punto è ma tutto quello che noi abbiamo visto in termini di gravità di malattia nella prima ondata è stato poi riprodotto nella seconda ondata. Queste sono due diciamo survey condotte in Italia sempre sia nel campus che si è speso molto in questo ambito e uno studio multicentrico statunitense. E allora come voi vedete in questo ambito qui c'è una riduzione che è ancora più significativa nell'ambito di questo studio diciamo statunitense. quindi noi scendiamo all'11%. Quindi possiamo dire che analogamente a quanto è successo negli altri individui normali abbiamo imparato a meglio gestire diciamo la patologia a meglio gestire i pazienti e quindi c'è sicuramente una riduzione della come dire del rischio di morte per covid nei pazienti con la lucemia linfatica cronica. Terzo punto è quello relativo all'impatto della terapia. Qui i pazienti diciamo in differenti studi che io vi ho elencato sono stratificati in tre gruppi pazienti che non hanno mai ricevuto terapia pazienti che sono sotto terapia pazienti che hanno ricevuto terapia sono in risposta e sono fuori terapia. Cioè come vedete le differenze non sono sconvolgenti quindi questo ci dà un'informazione come dire del tipo che anche i pazienti che non hanno mai ricevuto terapia hanno un rischio di diciamo di morire di covid i pazienti con la lucemia linfatica cronica che è analogo. Quindi di fatto la terapia non ha un peso particolarmente importante in quanto è il sistema immunitario la complessità del sistema immunitario del paziente con la lucemia linfatica cronica che è compromessa già di per sé. E un discorso a parte forse va fatto per i pazienti in off therapy i numeri ovviamente non sono dei numeri stratosferici però questo poi lo vedremo quando analizzeremo nel dettaglio anche il discorso dei vaccini cioè il paziente che in risposta compreta che in risposta profonda e che mantiene questa risposta è verosimilmente un paziente che è in grado anche di ricostituire diciamo parte del danno immunitario che come dire caratterizza la lucemia linfatica cronica. Fattori predittivi beh intanto l'età come voi vedete riesce a come dire consente di stratificare due gruppi di pazienti che hanno un outcome differente per quanto riguarda la sopravvivenza globale con una cut off con un limite a 75 anni come vedete le curve sono assolutamente differenti e l'altro dato che è importante che ricorre un po' poi anche nei soggetti normali è quello delle comorbidità la presenza di comorbidità qui nel caso specifico sono state valutate con uno score che è molto comune nell'ambito della lucemia linfatica cronica perché è uno score che viene molto usato ed è molto validato sia nell'ambito della chemoimmunoterapia ma anche nell'ambito dei pazienti che ricevono agenti target come vedete con un cut off a 6 si stratificano due andamenti di sopravvivenza come vi ho detto prima e questo ce lo dimostrano anche le curve di sopravvivenza c'è una sovrapposizione fra i pazienti che non sono mai stati trattati e i pazienti che sono in terapia e l'altro fatto che è importante è che diciamo questa stratificazione che voi vedete nella curva sulla vostra destra che fa riferimento ai pazienti che ricevevano inibitori della brutonchinasi e pazienti che ricevevano inibitori della brutonchinasi non c'è nessuna differenza questo perché perché le brutonchinasi hanno un duplice diciamo effetto la leucemia linfatica cronica si caratterizza per avere un danno del sistema immunitario che è complesso ed articolato che va a colpire sia quella che è la cosiddetta immunità innata e sia l'immunità diciamo adottiva che è quella che consente poi la produzione degli anticorpi e di fatto gli inibitori della brutonchinasi agiscono entrambi su questi due aspetti della dell'immunità però gli inibitori delle brutonchinasi sono anche dei farmaci che sono state utilizzati anche in soggetti che non avevano la leucemia linfatica cronica nel tentativo di gestire l'iperinfiammazione da covid e qualche volta con risultati positivi come dire rientrano anche loro nell'ambito di quel grosso coacervo di farmaci che sono stati utilizzati nell'ambito diciamo del trattamento del covid quindi per dare una risposta un po' a questi quesiti che noi ci eravamo posti l'incidenza cioè i pazienti con leucemia linfatica cronica non hanno una incidenza non hanno una probabilità maggiore di ammalarsi però quando si ammalano hanno un rischio maggiore di soccondere da infezioni da covid e questo fatality rate abbiamo detto tende a migliorare nella seconda ondata pandemica abbiamo detto anche che abbiamo evidenza ormai che lo stato di trattamento non ha alcun impatto diciamo sulla fatality rate e sappiamo che diciamo ci sono alcuni fattori che sono associati all'andamento clinico dei pazienti che si infettano che sono le tale comorbidità ora tutte queste informazioni diciamo sono state un po' raggruppate in una serie di raccomandazioni raccomandazioni che se devo dire sono comparsi anche abbastanza precocemente queste per esempio sono le raccomandazioni per la gestione dei pazienti con leucemia linfatica cronica che sono state come dire definite da LASH molto precocemente sostanzialmente queste raccomandazioni dicevano di come dire di posporre l'inizio del trattamento nei pazienti se questo era possibile di preferire quei trattamenti che come dire erano legati ad un minore accesso e a minore controlli laboratoristici negli ospedali quindi per limitare l'accesso dei pazienti agli ospedali e di evitare oppure addirittura saltare la terapia con gli anticorpi monocronali questo è quello che fu stato detto nella fase iniziale abbiamo visto poi che diciamo le cose poi non sono proprio diciamo così scontate come come dire come sono state dette in queste prime raccomandazioni questo è un secondo tentativo di raccomandazione che proviene diciamo sempre dagli Stati Uniti a 12 mesi dalla infezione da covid allora tutti quanti ci siamo un po' come dire abbiamo abbracciato un po' questo discorso soprattutto per i pazienti in watch and wait quindi i pazienti che non necessitano terapia del controllo a distanza ma in effetti e può essere questo diciamo un approccio per tutti i pazienti in watch and wait ecco qui come dire viene posto secondo me un problema che è estremamente interessante cioè noi abbiamo dei pazienti che hanno delle malattie prevalentemente leucemiche e pazienti che hanno delle malattie prevalentemente linfonodali allora mentre un controllo a distanza anche attraverso un emocromo fatto in un'altra sede ci può dare la misura di quella che è una malattia che progredisce sul piano leucemico in effetti non abbiamo la misura di quello che è una malattia che progredisce diciamo sul piano della malattia linfonodale che ha bisogno che il paziente sia visto e controllato sul piano proprio dell'esame fisico quindi anche in questo bisognerebbe cercare un pochino di cercare di discriminare e poi per quanto riguarda la scelta di terapia siamo noi nelle condizioni di come dire sulla base del timore del covid adesso che i percorsi negli ospedali sono migliorati adesso che diciamo gli ospedali sostanzialmente sono fra i posti più sicuri il personale è vaccinato i pazienti sono vaccinati cioè dobbiamo condizionare le nostre scelte terapeutiche diciamo a quello che noi sapevamo nella prima ondata oppure cercare come dire di ragionare un po' su algoritmi terapeutici che mettano in campo tutte le forze migliori in termini di farmaci e soprattutto come dire consentono meglio di personalizzare la terapia sulla base di quelle che sono diciamo le caratteristiche clinico biologiche ma soprattutto di fitness del paziente io penso che come dire è finito il tempo un po' in cui le scelte terapeutiche debbano essere fatte con la preoccupazione del covid e bisogna cercare sempre di più di contestualizzare il tutto in quello che diciamo sono oggi la maggiore come dire il rischio diminuito che esiste in questa popolazione anche grazie ai vaccini e questo giusto per darvi una misura di quello che è stato fatto questa è una survey che è stata condotta in un'area abbastanza ampia Caterina e Derriga hanno partecipato a questa survey e siamo andati un po' a vedere diciamo quello che succedeva in un gruppo abbastanza consistente di pazienti di oltre 100 pazienti 124 pazienti che avevano ricevuto per una condizione di malattia recidiva refrattaria un'associazione di rituximab e venetoclax con una terapia a termine diciamo a 24 mesi di venetoclax e siamo andati un po' a vedere quello che era un po' l'atteggiamento dei clinici allora come voi vedete 24 di questi clinici hanno risposto e la maggior parte dei clinici il 71% dei clinici dichiarava di non avere modificato la schedula terapeutica in relazione alla preoccupazione che i malati potessero come dire ulteriormente immunodeprimersi e quindi sviluppare il covid solo diciamo 7 il 29% degli ematologi invece dichiaravano di avere fatto delle modifiche che però erano più che altro legate alla tossicità legata alla terapia ma tutto questo però è stato possibile in quanto questi pazienti sono stati molto monitorati dal punto di vista di quello che era il rischio di covid qui c'è stata una sorveglianza molto attenta all'inizio di terapia il 67% aveva ricevuto un tampone e poi durante la terapia all'inizio di ognuno dei 6 rituximab mensili il 53% dei pazienti riceveva un tampone globalmente il numero di pazienti che sono ammalati di covid sono stati due un paziente purtroppo è diciamo ha avuto una malattia diciamo particolarmente particolarmente aggressiva ed è deceduto un secondo paziente ha recuperato e ha ripreso la terapia con veneto globalmente in una casistica selezionata trattata omogeneamente di pazienti con leucemia linfatica cronica diciamo recidiva refrattaria e in epoca prevaccino noi abbiamo osservato un 1,6% di incidenza che è anche un tantino più bassa di quanto è stato prodotto come risultato degli studi del campus CLL su circa 13.000 pazienti con leucemia linfatica cronica su una popolazione eterogenea che è del 3% quindi questo significa che diciamo la gestione di questi pazienti può essere fatta in modo ottimale però diciamo con quei livelli di attenzione che la contingenza richiede cosa abbiamo imparato inoltre abbiamo imparato che i pazienti che si ammalavano che diciamo riuscivano a superare la malattia riuscivano a fare una sieroconversione che era decisamente più bassa rispetto agli individui normali quindi soltanto il 67% di questi pazienti riusciva a produrre una quantità adeguata di anticorpi rispetto al 100% della popolazione normale e questa è un'informazione diciamo assolutamente importante che poi ci ritroveremo nell'ambito diciamo della vaccinazione ma veniamo un po' alla problematica della vaccinazione oggi parliamo di vaccinazione per il covid ma il problema globale dei vaccini della leucemia linfatica cronica è un problema che noi ci portiamo dietro forse da un ventennio e riguarda vaccini per influenza riguarda vaccini per herpes e zoster e via dicendo ora l'impatto del vaccino nel vaccino in paziente con leucemia linfatica cronica risponde sostanzialmente a tre caratteristiche intanto una legata al vaccino in quanto tale e quindi diciamo alla dose del vaccino e alla frequenza con cui il vaccino viene effettuato caratteristiche fattori legati al paziente che sono l'età la comorbidità e l'ipogamma globulinemia ma oggi però si aggiungono anche fattori legati al stato di terapia del paziente cioè se il paziente è un paziente in goccia in weight se è un paziente che riceve terapia quale terapia sta ricevendo se sta ricevendo un inibitore della brutonchinasi se sta ricevendo un antibicele 2 se sta ricevendo diciamo anticorpi monoclonali e poi spostandoci più avanti su quella percentuale di pazienti che hanno risposto al vaccino la problematica successiva è ma questi pazienti che titolo anticorpale riescono a produrre qual è il titolo come dire in termini di efficacia e quanto durano gli anticorpi che noi diciamo produriamo ora tutto questo è un discorso che può avere anche una valenza teorica io ci tengo a sottolineare una cosa molto importante mi piace sempre fare riferimento a quanto è stato definito recentemente dalla FDA che sostiene in modo molto chiaro che la valutazione dei titoli anticorpali negli individui normali ma questo secondo me può essere trasferito in modo assolutamente analo nei pazienti con leucemia linfatica cronica non possono servire a prendere decisioni le schedule vaccinali devono come dire seguire un criterio che è indipendente dal monitoraggio del titolo anticorpale però certamente ci danno una qualche informazione nell'ambito delle leucemia linfatica cronica però non servono a prendere decisioni questo schema è quanto è stato prodotto diciamo dalle raccomandazioni SIE e GITMO e quindi noi abbiamo delle raccomandazioni molto chiare e molto semplici che dicono che ci dicono che intanto la vaccinazione è raccomandata è fortemente raccomandata oggi questa diapositiva è anacronistica quando fu preparata ancora non c'era una chiara indicazione per quanto riguardava la vaccinazione nei soggetti con patologie ematologiche i vaccini sono a mRNA ed è quello che succede quindi non quelli a vettori virali e poi dovrebbe essere considerata in tutti i pazienti indipendentemente dallo stato di terapia restano poi dei quesiti irrisolti e i quesiti purtroppo sono aperti ancora oggi vediamo un momentino se riusciamo a sviluppare qualche ragionamento dopo su questi punti la frequenza della vaccinazione la vaccinazione in terzo in corso di terapia con inibitori delle brutonchinasi sapendo che la brutonchinasi è espressa nelle cellule B nei monociti nei macrofagi quindi va ad alterare diciamo quella immunità diciamo sia innata che adottiva del paziente dell'eucemia linfatica cronica e poi il ruolo degli anticorpi monocronali anti-CD20 oggi noi sappiamo che paziente con l'eucemia linfatica cronica dopo la prima dose fa una siero conversione del 27% e dopo la seconda dose una conversione del 52% una siero conversione del 52% quindi l'informazione che noi abbiamo oggi che metà dei pazienti con l'eucemia linfatica cronica fanno una siero conversione e l'altra metà no e questa è una meta analisi perché gli studi ci sono c'è un certo numero di studi però non ci sono dati come dire di quantitativi così grossi questa è una meta analisi che noi abbiamo fatto che mette insieme oltre 2000 pazienti quindi sono 13 studi 13 studi pubblicati alcuni anche presentati all'ASH e il dato globale come dire ci dà una conferma assoluta di questo su oltre 2000 pazienti noi possiamo dire che è circa il 52% che ottiene una siero conversione e ancora meglio cioè come come dire come è distribuita questo livello di siero conversione in relazione al trattamento dei pazienti certamente i pazienti che non hanno mai ricevuto terapia o i pazienti che sono stati precedentemente trattati e sono in risposta sono i pazienti che rispondono meglio rispondono meno bene i pazienti in trattamento e un discorso a parte va fatto per i pazienti che ricevono anticorpi anticidiventi rituximab o binutuzumab sono farmaci che ormai sono entrati nella pratica corrente utilizzati spesso in associazione anche con i nuovi agenti chi non ha mai ricevuto questi farmaci ha un 50% di siero conversione chi l'ha ricevuto ma in tempi lontani quindi in un periodo che è maggiore di un anno ha un 35% ma chi l'ha ricevuto a meno di 12 mesi ha solo un 5% quindi questa è una categoria come dire molto da attenzionare e anche i nuovi farmaci farmaci di tipo come dire inibitori delle brutonchinasi gli agenti target o inibitori di BCL2 come dire condizionano notevolmente la siero conversione e solo un quarto dei pazienti all'incirca riesce a fare siero conversione l'altro punto diciamo che mi pare molto importante discutere che poi ci introduce a quella che è la problematica della terza dose anche nei pazienti con leucemia linfatica cronica è ma dei pazienti che hanno ottenuto la siero conversione cioè quanti a 6 mesi l'hanno perduta i numeri qui sono piccoli però ci danno un'informazione che secondo me è interessante cioè di 22 pazienti che avevano ottenuto la siero conversione soltanto 14 a 6 mesi mantengono la siero conversione quindi c'è un 36% 36-37% di pazienti che perde diciamo la come dire che perde il dato della siero conversione quindi sono pazienti che evidentemente hanno bisogno della dose aggiuntiva e quale può essere la strategia ecco cioè noi a Arabia siamo come dire siamo partiti tutti quanti con la con la terza dose quindi la strategia è quella diciamo di ripetere a distanza di 6 mesi grosso modo un vaccino a mRNA ma ci sono anche delle altre strategie che hanno dimostrato in altre patologie come per esempio nel mieloma multiplo hanno dimostrato dei vantaggi per esempio il fatto di fare una vaccinazione eterologa quindi utilizzare prima un virus un vaccino con vettore adenovirus e poi un vaccino RNA oppure di dare una doppia dose ecco questo è stato utilizzato per esempio con i vaccini intinfluenzali nei pazienti con mieloma multiplo con efficacia quindi questi sono degli aspetti che sono estremamente interessanti dicevamo la terza dose ma in effetti la terza dose quanti pazienti riesce a recuperare in termine di siero conversione questo è uno studio molto interessante di un gruppo francese che sarà presentato diciamo al prossimo ASH ma i dati sono già online quindi non sono soggetti ad embargo più perché gli abstract sono già online e allora questi pazienti loro hanno valutato 66 pazienti 66 pazienti che erano negativi dopo la seconda dose d'accordo che avevano negativizzato dopo la seconda dose di questi 66 pazienti la terza dose ha consentito un recupero nel 42% dei pazienti quindi diciamo la terza dose consente di recuperare circa il 40% dei pazienti ma recuperano tutti in modo uguale? No recupera di più il paziente che diciamo che è naif per il trattamento quindi il paziente che ancora si presuppone abbia un sistema immunitario come dire già alterato di suo ma sul quale ancora la terapia non ha dato la botta finale e recuperano di meno il 32% i pazienti che sono in terapia l'altro aspetto però è che diciamo noi conosciamo soltanto una faccia della medaglia conosciamo la risposta umorale ma non sappiamo in effetti quello che succede sul piano cellulare cioè la risposta ai vaccini e la protezione che avviene attraverso i vaccini avviene prevalentemente con una risposta che è una risposta cellulare allora qui noi siamo andati a valutare un po' quelle che erano le variazioni delle sottopopolazioni linfocitarie delle cellule natural killer al baseline dei pazienti che hanno fatto sieroconversione e 14 giorni dopo la seconda dose di vaccino e come voi vedete c'è un aumento significativo delle cellule natural killer cioè in altri termini i pazienti che rispondono come dire in termini di sieroconversione che fanno gli anticorpi rispondono anche con le cellule natural killer che quindi finiscono con avere un ruolo assai importante in tutto il meccanismo di protezione ma diciamo sono soltanto i vaccini o ci sono nuove opzioni considerando che nell'ambito della leucemia linfatica cronica una buona percentuale di pazienti come abbiamo visto non fa la sieroconversione allora ci possono essere delle altre opzioni oltre il vaccino per questi pazienti in termine di come dire di prevenzione questo secondo me è uno studio estremamente interessante è uno studio che è stato pubblicato recentemente sul New England Journal of Medicine e che è andato a valutare questa associazione di due anticorpi monoclonali neutralizzanti il casirivimab e l'imdevimab che sono diciamo che vanno un po' che sono indirizzati verso dei recettori della proteina spike di SARS-CoV-2 allora in questo studio che è uno studio randomizzato questi pazienti che avevano avuto un contatto con un paziente diciamo infetto da Covid ma erano asintomatici sono stati randomizzati a ricevere una singola dose sottocute di questo diciamo associazione di due anticorpi monoclonali verso il placebo e come voi vedete soltanto l'1,5% dei pazienti che avevano ricevuto l'associazione la combinazione di due anticorpi monoclonali ha sviluppato ma in modo anche come dire non particolarmente aggressivo sul piano clinico l'infezione da Covid-19 contro il 7,8% nell'ambito dei pazienti che ricevono placebo quindi con una differenza che è statisticamente significativa e che naturalmente apre un po' diciamo come dire un futuro a quello che può essere una possibile utilizzazione diciamo di un farmaco di questo genere in pazienti diciamo che non riescono ad avere una seroconversione adeguata queste sono le mie conclusioni cioè intanto la risposta anticorpomediata al vaccino anti-Covid-19 è significativamente ridotta quindi bisogna avere consapevolezza di questo perché i pazienti devono essere invitati a mantenere tutte quelle che sono le norme di distanziamento sociale di uso di mascherina e via dicendo e anche se hanno sono stati vaccinati e anche se hanno ricevuto la terza dose e anche se sono fuori terapia perché diciamo la risposta quindi che è il secondo punto che la risposta al vaccino non è influenzata dall'attività della malattia e dallo stato del trattamento quindi diciamo sia i pazienti in come dire in watch and wait sia i pazienti che ricevono terapia di fatto hanno una riduzione significativa di quella che è la risposta anticorpale secondo punto cioè non deve essere utilizzata però la risposta anticorpale come criterio per prendere decisioni sulle dosi successive di vaccino cioè abbiamo dimostrato che non soltanto è la risposta anticorpale che ha un ruolo ma che c'è anche una risposta immunologica cellulare che non sempre però viene valutata e che non sempre si coglie il terzo punto è che la persistenza degli anticorpi diciamo dopo la seconda dose di vaccino nel tempo la valutazione nel tempo ci dice che a sei mesi il 40% dei pazienti ha perduto la risposta quindi questi sono pazienti da rivaccinare ma tutto questo per dirvi abbiamo detto tante cose forse anche troppe però per dirvi che sicuramente siamo molto ma molto avanti ma l'esperienza ce la stiamo facendo giorno per giorno e che sostanzialmente il paziente con leucemia linfatica cronica è davvero un modello come dire molto valido per poter mettere in atto tutte le strategie migliori tutte le strategie più innovative per migliorare quella che diciamo la protezione del paziente e soprattutto per perfezionare quello che oggi i vaccini ci hanno dato anche nell'ambito dei pazienti con leucemia linfatica cronica mi fermo qui è